la conferenza di Luca Guglielminetti, ambasciatore per l'Italia della Radicalization Awareness Network della Commissione Europea. L'avverto che in base alla disposizione adottata dall'aggiunta per il regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Vi chiamo quindi l'attenzione del nostro ospite eh su tale forma di pubblicità ehm che sarà disposta dove da parte sua ci sia eh non ci siano obiezioni. Ci sono obiezioni? No. No ci sono. Perfetto. Grazie. Allora eh dispongo all'attivazione dell'impianto. Ringrazio il dottor Guglielminetti e lo invito a contenere l'intervento in circa dieci minuti in modo da consentire poi le domande dei commissari. Grazie e buon pomeriggio a tutti e grazie a tutta la i componenti della della commissione per l'invito a questa audizione. Spendo due parole sul Radicalization Awareness Network eh istituito dalla Commissione Europea in particolare dalla DG Home cioè la Direzione Generale Affari Interni Immigrazione e dieci anni fa. È una rete di rete di operatori che nei vari settori nei vari settori di intervento della prevenzione del contrasto della radicalizzazione violenta che opera nello scambio di pratiche nel disegno di politiche in in materia. Eh la mia cooptazione al RAN dico solo due parole su di me dieci anni fa ah avviene per la mia progressa attività insieme a un'altra rete quella delle associazioni di vittime del terrorismo sempre promossa dalla Commissione Europea in seguito agli attentati dell'undici marzo duemila quattro alla stazione di Madrid. Nel settembre duemila e undici quindi al lancio della RAN erano esattamente dieci anni dalla dall'attacco alle torri gemelle a due mesi dall'attacco di Anders Breivik sull'isola di Utoria. In quell' occasione mi fu abbastanza chiaro eh e voglio presentarvi questo ehm doppio approccio nella prevenzione che credo che illustri molto bene eh come affrontare il tema terrorismo barra radicalizzazione. Infatti eh si notava come nei paesi del nord Europa ehm fosse eh privilegiato un approccio della prevenzione intesa come eh intervento per evitare che un soggetto diventi un un terrorismo ovviamente nei paesi del sud Europa la prevenzione è intesa come prevenzione del terrorismo cioè prima che avvenga un atto di ehm di terrorismo. ehm questo ehm credo che eh sarà molto utile per 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 ragionare poi su 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 questa proposta di legge ehm e aggiungo solo che il Radicalization Awareness Network e queste forme di prevenzione che cerca di intervenire sul soggetto prima che diventi terrorista si inquadrano nelle politiche europee di resilienza e coesione sociale delle comunità locali di fronte ai fenomeni appunti di terrorismo e radicalizzazioni. Dal duemiladodici quindi ho iniziato a gestire una serie di progetti europei in materia prima in ambito educativo poi in quello delle contonarrative nelle scuole e poi in quella nella cosiddetta deradicalizzazione dentro e fuori dal carcere fino al caso su cui stavo lavorando adesso la mia equipe di deradicalizzazione su un primo caso di un minore di estrema destra con un profilo almeno molto lontano da quello di Brevich. Permettetemi solo una precisazione linguistica eh preferiamo usare adesso disimpegno uscita piuttosto che delle radicalizzazioni perché non si tratta di far cambiare idea politico religioso al soggetto ma di un lavoro psicosociale sulle capacità emotive e relazionali della della persona. Un'attività questa che stiamo svolgendo qua a Torino di cui sono fiero perché negli ultimi mesi è stato oggetto di una ricerca comparata sulla gestione di questi tipi di interventi tra vari paesi da parte dell'università di Howard e finanziato dalla Nato. Ora ehm queste due forme di prevenzione, la prevenzione del terrorismo, la prevenzione della radicalizzazione, sono due cose diverse ed era molto chiaro quando questa proposta di legge nasce nel duemilasei perché quando conopi eh il piacere e l'onore di conoscere l'onoreve D'Ambroso che con Manciulli che seguirà il mio intervento eh erano poi i creatori di ideatori di questa legge ricordo che essa nasceva dalla necessità di affiancare quello che l'hanno stato l'anno precedente, il duemila e quindici erano state eh l'ultimo decreto antiterrorismo il numero sette del diciotto febbraio duemila e quindici che introduceva una serie di nuovi reati prodromici al reclutamento eh all'autorecultamento nel in gruppi terroristi e quindi affiancare a questa misura diciamo securitaria e repressiva una misura soft di salvaguardia atta quindi a intervenire sui soggetti prima che commettano i reati o per favorire nel disimpegno e l'inserimento sociale. Eh già allora nel duemilasedici la questione era piuttosto urgente in quanto l'Italia era l'unico e ancora rimane l'unico paese privo di una strategia in materia. Questo fatimelo dire francamente è stato per me imbarazzante rispetto alla commissione europea eh essere un po' rappresentante del dell'Italia anche se poi dal radical al radicalization awareness network devo dire hanno partecipato almeno un centinaio di di italiani eh provenienti dai vari campi dalla 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 polizia agli insegnanti agli psicologi alla personale dell'amministrazione penitenziaria. I miei commenti su questa proposta di di legge in vero credo siano in gran parte contenuti in quello che forse potrebbe essere un documento scientifico di partenza per ragionare su questa proposta di legge anche se è avvenuto dopo rispetto ehm il test originale del duemila e sei cioè in quella relazione del professor Vidino del duemila e sette che riporta al lavoro della commissione di studio sul fenomeno e della radicalizzazione promossa e istituita dal dall'allora ministro Minniti. Dico che è una la lettura utile perché là sono accolti tutti gli approcci europei della RAN mentre invece il testo che ancora sul quale ancora oggi state lavorando ha un impianto di legge che segue un modello che stava a che era quello che stava allora accontando il governo francese e che devo dirmi di molto francamente che costituisce un'anomalia nel panorama europeo. Un'anomalia nel senso negativo perché i fallimenti sui due versanti della della prevenzione eh d'oltre altri sono 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 sotto gli occhi di tutti. Cerco quindi di focalizzarmi su sei punti eh perché molti sono già stati menzionati da chi avete già a audito prima di me e quindi cerco di aggiungere solo delle delle precisazioni. La necessità di estendere l'ambito delle matrici di estremismo a tutte le sue forme non è solo un fattore di coerenza con le linee guida di tutti gli organismi internazionali della UE, delle Nazioni Unite e dell'OSCE. Ma richiede anche di avere eh contezza che il fenomeno della radicalizzazione è sempre un fenomeno di reciprocità. Abbiamo sempre due estremi in una dinamica di polarizzazione estrema destra, estrema sinistra, islamista, islamofoba. Questo credo che sia importante sottolinearlo. Aggiungo a chi eh prima di me ha parlato dei foreign fighters che oltre a chi si è rivolto allo stato islamico e chi dall'estrema sinistra verso i i curdi non sono mancati anche casi di chi nell'estrema destra si è uniti ai miliziani del Donbass in un altro scenario bellico ma pur sempre tale come quello russo ucraino. Rivolgersi quindi a tutti gli estremismi significa avere una legge olistica che guarda oggettivamente a tutti i rischi presenti nella nostra società come del resto fa la relazione annuale dell'intelligence al al Parlamento in cui appunto ci sono capitoli per le vari per i vari rischi per le varie forme di estremismo. Devo veramente questa è una preghiera a segnalarvi che una legge incentrata solo su una matrice eh jihadista ha il rischio di avere un altissimo effetto controproducente cioè quello di esacerbare i sentimenti della comunità islamica come hanno dimostrato le aspre di atribe che ci sono stato nell'ultimo decennio in in Francia ma anche nel Regno Unito quando questo tipo di attività eh restava focalizzata solo sull'ambito della della terrorismo jihadista. Devo precisare e questo veramente lavoro di ufficio nel senso che il RAN è citato all'articolo due ma la radicalization awareness network non è un ente che finanza progetti viceversa la commissione europea negli ultimi dieci anni ha inserito il tema radicalizzazione come prioritario in moltissimi dei suoi programmi quadro e quindi ne hanno sicuramente usufruito sia il ministro degli interni che quello della giustizia ma anche le università e moltissime associazioni e organizzazioni della società civile. Eh segnalo che naturalmente poi alcuni alcuni paesi hanno investito fondi ingenti, fondi propri su questo tipo di attività. Sempre sull'articolo due in cui si eh si parla di un numero verde per per segnalare i casi di radicalizzazione ho avvento di aver avuto un incontro al ministero degli interni anche con la polizia eh postale nella quale era stata scartata l'idea di inserire un numero verde sul modello appunto francese perché era in immaginabile che qualcuno vi si vi si rivolgesse se dall'altro parte risponde la polizia. Cioè questo tipo di eh di servizio è meglio svolto da un attore terzo che possa godere dell'autonomia e della fiducia di chi segnala un eventuale caso di radicalizzazione cioè una madre non va a denunciare il figlio sostanzialmente. Allora come nell'attività di deradicalizzazione e di exit che stiamo svolgendo eh spesso il focus del 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 di questo lavoro è incentrato sulle relazioni di fiducia e questo mi pare sia stato già segnalato anche da Diletta Buerardinelli che con me lavora eh impegnata nel 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 RAN e la società civile costituisce veramente il miglior attore in quanto terzo polo tra le articolazioni dello Stato e le varie forme di antagonismo. Sui rapporti tra quello che è previsto i due centri il CRAD del CRR e indirettamente anche qui voglio citare anche la PDL ventitre zero uno segnalo che l'analisi dei rischi e le conseguente strategie di prevenzione e contrasto sarebbe bene che non fossero così calate dall'alto top down. Non dico come sta facendo l'Europa bottom up perché appunto il RAN è una forma di è un modo di disegnare questo tipo di politiche proprio partendo dall'esperienza dal basso degli operatori ma almeno in forma bidirezionale. Le manifestazioni di estremismo volento sono piuttosto collegate ai territori. C'è un noto paper intitolato All Radicalization is Local. Cioè le le analisi e le esigenze di intervento sono spesso meglio osservate dalla dagli attori locali e anche nella storia della prevenzione, la dimensione urbana di tutti gli attori è quella che ha garantito i migliori risultati. Famoso è il caso della città di Harus, la seconda città danese che ha drasticamente ridotto nel giro di un anno il numero dei foreign fighters in partenza per la Siria. Eh il l'andamento lento tra l'altro della discussione di 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 questa proposta di legge eh è stato anche il motivo per cui poi qua Torino dal duemila e quindici abbiamo iniziato a costruire un tavolo di lavoro su queste tematiche che è stato alla fine dell'anno scorso formalizzatosi in sede di consiglio eh comunale che di giunta. Naturalmente i documenti su questo tavolo sono a vostra disposizione. Segnalo un altro punto sull'articolo dieci cioè sulle contronarrative permettetemi di osservare che appaltare al 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 lente televisivo nazionale la RAI questo ruolo suona più come contropropaganda. Per narrative alternative o contronarrative si intendono i prodotti creati tra virgolette spontaneamente dalle organizzazioni della società civile anche in questo caso è fondamentale la terzietà e l'autonomia rispetto allo Stato di chi comunica con gli ambienti a rischio di radicalizzazione. Concludo con il tema delicato del del carcere perché c'è l'articolo che forse apprezzo di più l'articolo undici dove c'è scritto di garantire ai soggetti italiani e stranieri detenuti in trattamento penitenziario che ai sensi degli articoli promuove la loro deradicalizzazione e il loro recupero in coerenza con il piano strategico nazionale. Eh un tale trattamento però rischia di essere un reso pressoché impossibile. Da una parte noi al momento abbiamo una politica per cui se c'è abbiamo uno straniero con sentenze passate in giudicato sul terrorismo nel momento in cui esce dal carcere viene espulso. Questa è la politica dell'antiterrorismo dell'Italia degli ultimi anni che come noto ha ottenuto dei buoni risultati. Eh il problema è però appunto che tale trattamento ehm perché oltre a questo fatto rischia di restare solo sulla carta perché i il detenuto per reati di terrorismo è posto in circuiti di alta sicurezza nei penitenziari dove non c'è solo un problema di carenza di personale trattamentale cioè quello che dovrebbe fare la deradicalizzazione ma anche un certo numero di violazioni di eh di diritti come si può leggere nelle relazioni del garante nazionale sulla libertà persone private della libertà. Inoltre e qui segnalo perché di estrema attualità eh cosa soprattutto impedisce la e su questo finisco la riabilitazione del del detenuto radicalizzato è il famoso articolo quattro bis dell'ordinamento penitenziario eh che impedisce qualunque misura alternativa al cace che possa che possa favorire l'inserimento eh sociale e o e da questo punto di vista c'è tutto il problema di quelle che sono state le la le sentenze della Corte Europea e poi di quella costituzionale proprio per che che chiede al Parlamento appunto di di intervenire sul famoso eh ergastolo o o stativo. Questo secondo me è un aspetto assolutamente eh preliminare per eh per per poter attuare l'articolo undici perché eh vi posso mandare diciamo quella che era stato lo studio di fattibilità sulle attivi sulle possibilità che l'ordinamento italiano permette di fare interventi di deradicalizzazioni e noi abbiamo sostanzialmente solo due fatti specie lavorare con i minori messi alla prova come stiamo facendo con con i minori occupa a Torino o lavorare con le misure di eh di sicurezza come occorso nel in un caso a a Napoli eh seguito dalla collega dell'Università di Bari eh oddio mi scappa il nome purtroppo in questo momento Sabrina Marducci eh io resto a disposizione del delle domande grazie dell'attenzione grazie presidente buon lavoro grazie eh per una domanda darei se non ci sono altri iscritti poi me lo dicono durante la domanda dell'onorevole Fiano do la parola a l'onorevole Fiano grazie ringrazio per la sua digressione e chiedo se lei avesse la possibilità di mandarci una relazione scritta e devo dire che ci sono molti punti che se li ho capiti bene non mi ritrovano concorde eh il primo è sulla sua contrarietà al tema al al nome di deradicalizzazione che è un nome frequente in moltissime delle trattazioni internazionali e mh lei dice disimpegno no cioè il problema è la radicalizzazione della cultura dell'islam lei poi in particolare segnala che questo lavoro che questa legge si ripropone potrebbe essere estesa a tutti i fenomeni di estremismo ma devo dirle che questa sua posizione non mi trovo a concorde eh mi è complicato fare di tutta l'erba un fascio che cosa vuol dire che io dovrei trattare terrorismo di matrice politica nera o di matrice politica rossa antagonismo sociale anarco rivoluzionari antagonisti eh così come eh gli appartenenti ad un credo eh diciamo che individua nelle nelle visioni differenti dalla propria del corano o nelle altre comunque eventuali apostasie eh una necessità di un intervento ablativo cioè di ucciderli non mi sembra se io non ho capito male mi sembra eh complicato condividere il suo punto di vista eh mi sembra invece utile quella segnalazione che lei ha fatto che il referente di un eventuale ehm diciamo call center numero verde possa non essere un appartenente alle forze di polizia dello Stato da un punto di vista generale anche se noi abbiamo fiducia e e la stessa legge ne parla che nelle forze di sicurezza dello Stato si possono formare professionalità atte a eh corrispondere ad un desiderio o un bisogno di aiuto che magari i familiari fratelli padri padri eh figli possono fare nella denuncia però in fare una segnalazione da da tenere in conto ehm poi mi pare anche che lei abbia detto eh anche questo credo che sia una considerazione di cui tenere conto eh che soprattutto se non vado errato nella formazione della pianificazione nazionale quella di cui all'articolo eh dunque insomma quando si parla del 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 crad e comunque della pianificazione del piano strategico nazionale che deve presisporre lei dice giustamente secondo me che non bisogna avere un un'impostazione unicamente top down ma dovrebbe essere anche bottom up e quindi farsi forte anche di delle esperienze professionali eh sul terreno questo anche penso che possa essere una una giusta notazione però in generale onestamente non capisco tanto la sua il suo incipit che se io l'ho capito bene può essere che io abbia capito male e che vuole guidare che vorrebbe questa legge spinta verso una più generale o generica eh un generico contrasto a forme varie di estremismo noi ma anche lei stiamo parlando di un di uno specifico molto specifico eh fenomeno in particolare diciamo esploso negli ultimi venti anni che interessa l'Europa negli ultimi venti anni ma che attraversa il mondo arabo-eslamico da molto tempo e per il quale come lei ha detto giustamente citando anche esempi di altre nazioni noi possiamo avere un atteggiamento non solo di tipo securitario eh ex post ma più soft come ha detto lei e preventivo però riguarda questa specifica tipologia e mi chiedo se lei possa rispondermi per chiarire questi punti che le ho sollevato grazie. Prima di lasciare lo spazio per la risposta lascerei la parola all'onorevole Perego che chiesto di intervenire. Grazie presidente, grazie dottor Guglielminetti per la sua relazione eh io su questo ho un punto di vista divergente rispetto al collega Fiano ovvero io eh sottolineo l'importanza delle sue parole nel voler allargare il perimetro di interesse di queste proposte di legge anche a una componente e si può riassumere in una connotazione di complottismo e seregnismo di destra di diverse sigle che interessano l'Europa oggi e e penso che sia importante perché anche in questo caso si tratta di forme di radicalizzazione che hanno il comune denominatore di essere dei fenomeni di antagonismo rispetto alla società civile rispetto all'ordinamento democratico dell'Europa e la storia recente eh di questa pandemia in particolare ci insegna come fenomeni che forse non credevamo potessero esistere fino a qualche anno fa invece hanno preso in questo biene una rapida ascesa che poi è culminata con l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio eh c'era un articolo di Washington Post proprio su questo che mi ha colpito particolarmente perché alcune delle persone interrogate dell'assalto hanno detto che cosa ho fatto di male non pensavo che fosse illegale questo io credo che sia interessante come fenomeno da osservare perché rappresenta come ci sia eh anche nell'ambito della della radicalizzazione non jihadista una forte eh diffusione di dottrine che non hanno in realtà una vera ideologia specifica come invece ha jihadismo ma semmai quella di contestare la società attuale io credo che quindi intervenendo noi legislatori sulla materia eh come quella del terrorismo omettere di considerare seppur per una natura differente anche questi fenomeni non risponderebbe a quelle necessità doppia sia sicuritaria che anche di forma di cultura e di e quindi di eh deregalizzazione di queste di queste persone che si fanno coinvolgere soprattutto attraverso la rete in in queste organizzazioni. L'altro aspetto importante che su quale volevo suo parere era questo studio dell'European Union Institute for Security Studies che ha definito come l'ISIS eh che ha perso la sua componente statuale sia tutt'altro che eh sconfitta che anzi invece possa vantare contare un esercito di ventisette mila adepti per lo più bambini ehm si contano nel mondo duecentocinquantamila bambini eh combattenti per cui eh da questo punto di vista io credo che ci sia eh vorrei avere il suo parere la necessità di lavorare anche a a un percorso preventivo io credo che disgregarsi dei valori della società e dell'educazione tradizionali soprattutto nelle situazioni di marginalizzazione eh siano il focolaio per radicalizzare questi bambini sia in una componente come dicevo prima islamista come dicevo adesso islamista sia in una componente come dicevo prima di più di più ampio spettro chiamiamolo antagonista complottista e versivo di destra ma in questo senso ci siano delle matrici comuni sulla debolezza dei dei sistemi educativi e formativi e di prevenzione della società. Grazie. Grazie dottor Guglielminetti le do la parola con l'unica preghiera di provare a essere tenuto conto della complessità delle domande per carità però il più sintetico possibile perché abbiamo veramente pochi minuti. Grazie. Ci provo capisco benissimo che sono poi iniziati un po' in ritardo i lavori. Per la relazione ringrazio l'onorevole Siano per la domanda naturalmente sarà mia cura a fare avere alla commissione una relazione e un paio di documenti. Sul termine deradicalizzazioni non voglio diciamo intestardirmi è semplicemente ehm il fatto che nella letteratura più recente si parla di disimpegno o eh è uscita ma più grato perché deradicalizzazioni sembra che uno debba intervenire sulle scelte ehm diciamo politiche ora io conosco ehm mi è capitato dopo aver lavorato con 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 le vittime del terrorismo che avrei conosciuto molti dei nostri ex terroristi beh nell'ambito di tutta quella che era l'aria eversiva della della sinistra non conosco uno di questi eh di queste persone che oggi non sono naturalmente non costituiscono più alcun pericolo ma non ce n'è nessuno che diciamo non non abbia mantenuto diciamo l'idealità a un'idealità di 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 sinistra o di estrema sinistra assolutamente questo senza prendere in mano una un'arma quindi non è che eh l'idea che le faccio questo esempio noi stiamo lavorando con un giovane di estrema destra eh neofascista che ha postato delle cose terribili un manifesto come aveva fatto a suo tempo brevici su telegram ma io non ci sto lavorando con un esperto di cultura neofascista eh come si pensa che un imam dovrebbe lavorare eh un imam moderato dovrebbe lavorare con il detenuto radicalizzato per fare un esempio io ci sto lavorando con una ragazza egiziana eh tanto per darvi eh l'idea allora io vorrei precisare molto sinteticamente che non sto tra l'altro presentando esattamente le mie idee diciamo come ambasciatore io dovrei promuovere quelle che sono le politiche dell'Unione Europea e eh vi posso assicurare che in tutti gli altri paesi eh questo tipo di problema è eh affrontato in termini appunto olistici verso tutte le forme di estremismo perché il processo dal punto di vista psicosociale non cambia se uno si rivolge alla un all'estremismo jihadista piuttosto che a andare a combattere con i curdi come anarcho internazionalista o come neofascista che poi magari va a combattere nel nel Donbass e il e questo è il punto fondamentale eh come eh approvo e qui vengo anche alla rispetto a quello che diceva Perego noi abbiamo spesso avuto in questi ultimi anni una percezione sovraesposta del rischio jihadista a scapito del del rischio dell'estrema destra sono anni che negli Stati Uniti sanno che ci sono stati più attentati di estrema destra che di eh matrice jihadista. Finisco è veramente l'ultima l'ultima questione perché non focalizzarsi solo sul jihadismo. Allora chi voleva il califato dopo la prima guerra mondiale era il movimento panarabista che fino alla guerra fredda usava un'ideologia di carattere politico socialisteggiante. E' stato dopo il crollo del muro di Berlino che questa ideologia panarabista che è nutrita di cultura salafrista ed è quello che oggi chiamiamo jihadista. Se noi dopo domani ipotizziamo sempre gli stessi che vogliono costruire un califato nel mondo arabo chiamano la loro ideologia pippo noi abbiamo una legge che non parla della radicalizzazione pippo. Questo è diciamo il senso ma spero ci sia occasione di avere un ulteriore confronto e cercherò naturalmente nella mia relazione di dettagliare quanto miglioro queste che sono le politiche però riferisco non sono solo le mie idee sono quelle che sono le politiche promosse dalla dalla Commissione Europea. Vi ringrazio ancora. Grazie a lei aveva chiesto di reintervenire l'onorevole Fiano. No scusi mi fa molto piacere che lei possa mandarci una una relazione scritta così magari io capisco meglio poi magari c'è l'occasione anche di parlarci direttamente però già che ci siamo io non ho sostenuto che l'estremismo di matri guardi con me sull'estremismo di di destra sfondo di porta aperta di immagino sono diciamo un discreto conoscitore della galassia nera c'è l'Italia in Europa negli ultimi venticinque anni. Io non sto sostenendo che questa non esiste come esiste anche l'estremismo di altro colore ovviamente e mi sorprende che lo si pensi di trattare nello stesso modo. Io ho in mente alcuni modelli poi lei sicuramente ne ha in mente di più. Non so penso a degli esempi francesi poi non è che tutti siano riusciti così tanto ma mi pare che ci sia una specificità della matrice jihadista poi lei dice se un giorno si chiamerà Pippo. Vabbè però suggerisco di non fare esempi nel quale il contenuto teoretico è superiore al contenuto di realtà. Cioè noi sappiamo che esiste un'interpretazione dell'Islam che si chiama jihad. La visione del jihadismo non è degli ultimi trent'anni eh cioè i fratelli eh musulmani per dirne una eh possiamo andare indietro all'ottocento per ricercarne le radici di quella visione. Possiamo fare eh studi molto approfonditi su sui salafiti ma a ma a prescindere da questo diciamo dalla della durata storica o della perduranza del del nome dell'aspetto nominalistico però mi pare che ci sia una e poi lei magari mi smentisce perché sul campo ho provato altre cose io sono sempre eh disponibilissimo ad apprendere eh che un conto è ragionare sul fatto che vi siano degli imam faccio un esempio che non sono che non credono in quella visione del Corano e che spiegano che il Corano non dice quelle cose e tentare all'interno della loro fede religiosa un recupero di determinati valori. Un conto è affrontare eh il terrorismo di matrice politico-ricoluzionaria totalmente sbagliato, criminale, da combattere e però non mi pare che sia lo stesso ragionamento. Cioè certo che mi piacerebbe deradicalizzare o far uscire come dice lei i terroristi dalla loro ideologia però mi pare che siano due argomenti diversi. Volevo solo significare questo. Dipende se la finalità è quella di fargli cambiare idea e io questo non credo che eh ma credo che ne convenga anche lei non è questione di fare cambiare idea. Esiste un salafismo quietista che non usa la violenza e dà comunque delle teorie diciamo che possiamo considerare sbagliate nell'interpretazione del 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 Corano e l'approccio è invece lo stesso se la finalità è quella del disimpegno dalla violenza. È quella di uscire da un gruppo estremista e recuperare le reti familiari, amicali e sociali che permettano un disimpegno dall'uso della violenza. È per questo che l'approccio è lo stesso per ogni forma di estremismo e qui la Francia purtroppo è esattamente un'anomalia nello scenario europeo internazionale ed è quella che ha avuto i risultati più fallimentari in in questo tipo di di politiche ma spero veramente onorevole Fiano che ci sia occasione di di scambiarci. Volentieri molto volentieri grazie. Assolutamente grazie a tutti e grazie a tutti voi. Grazie presidente. Grazie a lei e grazie molte per la disponibilità e per la profondità del confronto. Con questo diciamo concludiamo il ciclo di audizioni. Con lei concludiamo il ciclo di audizioni di oggi. L'audizione del presidente Andrea Manciulli è rinviata ad una data che decideremo insieme per carenza diciamo di di tempo quest'oggi. Grazie.